Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale col video di oggi Continuiamo la saga del mitico Bobby Fischer Siamo nel 1960 alle Olimpiadi di Lipsia e gli Stati Uniti di Fischer al sesto turno giocano contro l'Ungheria Del fortissimo Laszlo Zabo che pensate per una ventina d'anni è stato il più forte giocatore ungherese Oltretutto una classifica di Chess Matrix lo piazza nel 1946 perché Zabo era più anziano di Fischer Al sesto posto di una ipotetica classifica mondiale Allora guardiamo insieme cosa è successo, like al video e partiamo subito Perché in questa partita Zabo di bianco apre con D4 e allora Bobby Fischer risponde con cavallo in F6 Arriva C4, Fischer apre il fianchetto, cavallo in C3 e con Alfieri in G7 Siamo nella Indiana di Re Una difesa che sappiamo essere molto molto amata da Fischer E allora che cosa fa Zabo? Si prende il centro con la spinta E4 Fischer a rocca corto anche D6, queste due mosse sono quasi intercambiabili Questa posizione, cavallo in F3 è la mossa più giocata Ma probabilmente non è la migliore Molto interessante come suggerisce anche Stockfish E come si vede anche aprendo un qualsiasi database Nella pratica H3, la calma H3 ha risultati molto importanti E invece Zabo gioca la poco giocata Alfieri in G5 E allora Fischer tranquillamente gioca D6 Donna in D2 crea quella batteria Donna Alfieri che conosciamo bene E consentirà, se possibile, in futuro l'arrocco lungo E allora cosa fa Fischer? Gioca subito C5 E qui non si può permettere il bianco di farsi catturare il pedone O addirittura di aprire la posizione E allora Zabo gioca D5 Fischer giocherà E6 Continuazione principale E allora sviluppo dell'alfiere in D3 Ricordiamoci che il cavallo è ancora inchiodato E allora arriva E per D5 Che libera anche l'alfiere campo chiaro Il cavallo ricattura Però il cavallo di Fischer è protetto Arriva Alfieri in E6 Ora come da teoria Zabo cerca Vedete con lo sviluppo del cavallo in E2 Di andare a sostituire il primo cavallo col secondo Ma Fischer non gliene dà tempo E infatti cambia l'alfiere chiaro sul cavallo in D5 E' il pedone naturalmente che deve ricatturare Sviluppo del cavallo in D7 Proteggendo una seconda volta il cavallo Tutto è protetto Si libera praticamente l'azione della donna E allora arrocco corto per il bianco E allora Fischer preferisce portare il cavallo in E5 Vedete che va a minacciare questo alfiere chiaro di Zabo Ma Zabo giustamente non è interessato a perdere tempo a salvare questo alfiere Perché è il suo alfiere cattivo Cosa dovrebbe fare però il bianco? Andare a migliorare i suoi pezzi Probabilmente cavallo in G3 buona E sicuramente torre in A che va in D1 Ugualmente buona E invece Zabo gioca una mossa un po' affrettata Che è F4 Che arriva con tempo perché attacca il cavallo Ma il cavallo si cambia sull'alfiere E quando la donna ricattura Guardate un po' che cosa è successo Si sono aperte delle linee di attacco sul re E oltretutto adesso Fischer ha la possibilità Senza più la batteria di giocare l'importantissima mossa H6 H6 arriva e impatta l'alfiere che torna indietro in A4 E allora Fischer centralizza la torre per primo Torre in A che va in E1 E come dicevamo la donna è libera di muoversi Donna in B6 attacca il pedone Non si poteva giocare B3 Certo che si poteva giocare Non lo farà Zabo Come mai? Perché dopo B3 C'è cavallo in E4 Che fa delle cose importantissime Protetto dalla torre inattaccabile Libera l'alfiere Libera anche in futuro la spinta F5 Adesso la donna si può spostare in A6 E continuare a minacciare i pedoni sul lato di donna Però Zabo fa una cosa Qui probabilmente anche cavallo in C3 era interessante Interessante anche se Anche con quello che abbiamo visto B3 è una buona idea Zabo fa invece una cosa che non è una grande idea Va a cambiare l'alfiere sul cavallo in F6 E allora Fischer ricattura di alfiere E arriva anche la spinta F5 Ma il nero può giocare G5 B3 arriva adesso E come vi dicevamo Arriva donna in A5 Guardate che disastro Guardate che disastro Se il bianco pensa di giocare A4 Se il bianco gioca A4 Giustamente non giocata da Zabo in partita Arriva alfiere in D4 E il cavallo è inchiodato sulla torre E quando il re si sposta Arriva torre in E3 E qui Vanno a cadere Vanno a cadere un po' tutti i pedoni Perché poi dopo Anche se il pedone non cade Arriva il raddoppio delle torri E la situazione diventa veramente complicata E allora dopo donna in A5 Sposta giustamente la torre Attaccata due volte Anche a raggi X Torre in C1 E Fischer E Fischer cattura il pedone in A2 Il cavallo è due volte sotto attacco Zabo crede di difenderlo con torre in C2 Sono passate 21 mosse E Fischer giocherà una continuazione eccezionale E allora noi siamo arrivati Al nostro quizzone Mettete pure in pausa E da voi la parola Ritorniamo a noi Cosa avrà giocato Fischer Fischer piazza la torre in presa in E3 Che è una deviazione micidiale E che succede? Allora prima di tutto Se la donna si sposta Se donna in D1 Non giocata da Zabo La donna cattura il pedone E se cavallo in C1 Donna in A4 Arriva la seconda torre E il nero è rimasto Con due pedoni di vantaggio E poi oltretutto guardate Che attività dei pezzi E allora dopo torre in E3 Zabo è costretto a catturare la torre Donna per torre in E3 Naturalmente è rimasta scoperta la sua E allora Scusate Sono rimasto a Kasparov E allora Fischer Con la donna Cattura la torre in C2 Il re si sposta Ma È una mossa Che non infastidisce Fischer Che spinge in A5 Zabo Prova un disperato Contraattacco Alla mossa 24 Con la spinta H4 Fischer gioca A4 E il bianco abbandona Come mai Perché guardate Se H per G5 L'alfiere ricattura Attacca la donna Che deve mantenere La protezione del cavallo E se donna in F3 Il pedone di Fischer Cattura Ed è a due passi Dalla promozione E dopo A4 Se B per A4 La donna cattura in C4 Tutti i pedoni Sono sotto attacco E qui cadrà tutto quanto E quindi Non c'è più niente da fare E allora Un'altra vittoria Dell'implacabile Bobby Fischer Che spero proprio Vi sia piaciuta E mi raccomando Se vi piacciono I miei contenuti Anche se in quest'ultimo periodo Mi sento un po' stanco Ma se vi piacciono I miei contenuti Speriamo di portarli In maniera soddisfacente Iscrivetevi al canale Per aiutarmi a farlo crescere Come vi dicevo Visto che mi sento un po' stanco Prenderò Sabato prossimo di ferie E allora noi ci vediamo Lunedì con un nuovo video A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti